E' stato arrestato nel giorno del suo compleanno, ovvero venerdì 2 aprile, il 50enne che all'apparenza operaio con una vita tranquilla conduceva a una illecita attività di spaccio. Il 50enne della zona di Vallefoglia è stato individuato ed arrestato grazie ai controlli della Polizia di Stato effettuati anche nelle zone periferiche di Pesaro. Gli agenti della squadra mobile che avevano avviato un servizio di osservazione nei confronti dell'uomo, nel corso dell'appostamento notando che stava per partire a bordo di uno scooter e sospettando che potesse avere con sede lo stupefacente, hanno bloccato il 50enne procedendo al controllo. La perquisizione è stata poi estesa alla sua abitazione dove all'interno di un forno a microonde è stato trovato un barattolo contenente due involucri, uno con 10 grammi circa di cocaina e l'altro con 15 grammi di hashish. È stato poi recuperato dagli agenti anche un barattolo più grosso nascosto sotto un tavolo, anche questo contenente due involucri, uno con 57 grammi circa di cocaina e l'altro con 105 grammi di hashish. La perquisizione ha inoltre permesso di rinvenire il materiale per il confezionamento delle dosi, fra cui un bilancino di precisione e la somma di 500 euro in contanti, ritenuta essere il provento dello spaccio. L'uomo è stato tratto in arresto ed è stato associato al carcere di Villa Fastigi. Ieri mattina l'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria.